ciao questo è il nuovo video che solito che faccio sul film che riesco a guardare a recuperare nel guardare che questo film come genere la solita commedia americana che questo film che mi sono andato a recuperare questo film che si chiama tutti tranne te che è la solita commedia americana che come film 2 1 quasi un'ora e tre quarti quella 1 e 42 più o meno di film che come regista di questo film è questo wille club che magari come come tipo di film è il solito magari solo per magari adarsi a recuperare magari qualche film è solo per magari per passarsi solamente magari un po il tempo che magari ho provato sicuramente magari a vedere ho provato a vedere i film magari migliori di questo dopo essendo magari commedia e ma è solito magari la solita magari commedia americana che che parla magari solamente di questo di questi due due ragazzi che magari prima di andare a guardare a guardare i propri film mi sono guardato come al solito ho letto qualche qualche recensione su questo film e magari anche se magari potrebbero essere positive magari certe recensioni e magari certe recensioni e la solita magari commedia americana come 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 film che più che altro magari magari come trama parla più che altro questi due ragazzi di questa ragazza bella bea e di questo ragazzo palestrato che si chiama ben che questo ragazzo ben palestrato e il solito magari palestrato donnaiolo che che questi due ragazzi si incontrano magari per caso e passano magari passano per questa notte memorabile ma dopo questa notte le loro strade magari si si dividono per poi per per poi come si dice anni dopo al matrimonio di proprio di bea c'è al matrimonio della sorella proprio di bea si 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 rincontrano per caso in questo matrimonio che in australia che che magari tra ridendo e scherzando tra graffi così stringono un fatto che loro due devono essere fidanzati ma la ma come si dice ma la sorte magari della vita così e come si dice essendo in australia a sidene e questa magari magari tra virgolette magia che si può trovare lì di questi magari eventi che succedono a sidene e di anche di questo elicottero magari questi questi due questi due ragazzi bea e ben magari a fine magari si trovano per caso in questo matrimonio e più che altro magari la trama è concitata più che altro tra questi due ragazzi bea e ben che si rincontrano anni dopo proprio al matrimonio della sorella di bea più che altro magari è al solito magari commedia romanti all'insegna all'insegna magari un po' del lusso un po' magari anche del lusso sfrenato che più che altro la trama parla di più che altro magari di questi tra questi due ragazzi innamorati che se la vogliono si vogliono più che altro magari divertire che come ho detto magari prima questo film magari adesso ho visto che magari certi film su certi cinema ho visto che lo stanno ancora proiettendo in certe sale come film che magari tra magari a breve sicuramente lo si può magari se qualcuno ha qualche abbonamento magari lo si può trovare magari su qualche piattaforma ma essendo magari un film che è uscito alla fine di gennaio nell'ultima settimana e verso la fine di gennaio magari tra un po' lo si trova sicuramente magari su qualche piattaforma che se qualcuno magari ha qualche abbonamento lo può guardare magari anche gratis che più che altro magari è la solita commedia romantica americana è giusto per magari andarsi magari a recuperare qualche film per tenersi magari non è il solito filmone che passa marei alla storia però è giusto per guardarsi marei il solito film per tenersi marei un po' impegnati per quell'ora e quanta però alla fine marei sono riuscito marei andarmelo a recuperare come film che magari come al solito vi lascio sempre marei in descrizione marei qualche informazione in più marei sempre su questo su questo film tra gli attori che hanno partecipato e anche altre informazioni e altre informazioni che riesco magari a trovare e niente quello che potevo magari dire su questo film magari l'ho già detto e al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti sempre sul mio canale come al solito con i miei soliti video e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao